Il problema amianto, il collasso del dispositivo di soccorso etneo e siciliano, il precariato, il riconoscimento INAIL della categoria altamente usurante, sono solo alcuni degli argomenti al centro dell'Assemblea pubblica che si è svolta ieri, organizzata dal sindacato USB dei Vigili del Fuoco. Ieri abbiamo tracciato il resoconto annuale di tutto quello che è stato fatto in quest'anno corrente e di quello che verrà fatto nell'anno 21. Abbiamo discusso della situazione politica e del futuro sottosegretario agli interni che verrà nominato la prossima settimana. Abbiamo discusso dell'Ona, l'Organizzazione Nazionale Amianto, che negli anni ha provocato tantissime vittime nei Vigili del Fuoco. Abbiamo discusso dell'Ona, opera nazionale assistenza che riguarda la situazione per i Vigili del Fuoco, che ci sono stati non pochi problemi su quest'Ona. Poi abbiamo discusso della situazione del soccorso tecnico-gente terneo e siciliano, che ricordiamo è completamente al collasso. Per le carenze di uomini, per le carenze di mezzi, per le strutture, per le attrezzature. Abbiamo discusso delle assunzioni, abbiamo discusso del precariato. Ricordiamo che è secondo soltanto alla scuola e speriamo che si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Abbiamo cercato di far capire alla popolazione che la situazione è veramente critica per quanto riguarda il soccorso tecnico-gente. Cercheremo di far conoscere e di portare ancora a conoscenza la problematica che attanaglia il soccorso etneo e il soccorso siciliano. Vogliamo fare un augurio di buon anno e buone feste a tutti i Vigili del Fuoco di tutta Italia, anche i siciliani, e alla popolazione, sperando che negli anni a venire qualcosa si possa risolvere.